Il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nunes, ha espresso delusione per la decisione della regione Abruzzo di non assegnare i 3,5 milioni di euro richiesti dal Fondo di Sviluppo e Coesione per il completamento della villa comunale e la sistemazione del teatro. Nonostante il Comune abbia ricevuto 13 milioni per altri progetti, Nunes rimane determinato a cercare ulteriori finanziamenti per restituire la villa alla comunità. Il piano terra è già finito e ancora chiuso in attesa dell'installazione di una pompa di calore, il giardino invece è verso uno stato di degrado con danni causati da atti vandalici e l'assenza temporanea del giardiniere. Tuttavia il sindaco ha assicurato che il giardiniere tornerà a breve e che si sta lavorando per automatizzare i cancelli e migliorare la sicurezza con telecamere di videosorveglianza. Infine Nunes ricorda che il giardino è stato riaperto dopo una precedente chiusura e che ora è un luogo apprezzato da famiglie e giovani.